ben tornati nel canale delle borneo oggi ci abbiamo ci metto la voce dai perché ieri ho fatto quella partita così di sera pomeriggio sera tardi insomma dove sto per vedere come andavano giocate due adesso vi faccio vedere i risultati questo è il video 4 2 quella prima appunto con questo cpablos 89 perso 32 i miei avevano il cemento al posto dei piedi avevano il cemento armato guardate i dettagli dell'utente ok io avevo 50 per cento di vittorie però lui è in divisione 6 e a 480 mi ha scritto che devo 6 uno scarsone ma che no se è un inetto se è uno scarsone 3 a 2 3 2 e io ho detto con le partite che hai giocato e la valutazione che hai per favore dai se vuoi che ti mando la partita l'avevo registrata gliel'ho detto a lui se vuoi te la mando per email così ti vedi quanto veloci correvano i miei giocatori per farti capire a questa qua poi l'ho persa perché mi sono dimenticato di cambiare l'assistenza dei passaggi l'ho lasciata a 3 e allora contro con vedete professionista 2 1 ho vinto con la squadra quella più scarsissima che ho vinto 5 1 contro il dottor 9 medio e 4 a 0 contro l'everton e questa è la leggenda che vi ho portato poi le altre sapete su tutte le partite a leggenda che ho perso ok siamo sono praticamente adesso questa cosa qui vedete 3 vittorie 3 sconfitte 3 sconfitte per script e 50 per cento di vittorie 4 88 di valutazione avevo 4 96 praticamente perdendo e vincendo sono andato sotto di 8 punti lasciamo perdere va la comunque è sempre peggio 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 oggi vorrei portarvi la match day no sono andato in match day ma non c'entra niente non voglio fare il match day poi lì ho una valutazione ancora peggiore perché ho perso da paura ho sbagliato dovevo giocarmi prima le divisioni online e farmi la valutazione le prime 10 e poi giocare in match day vabbè ho sbagliato volevo provare a fare la ah ma c'è già la cooperativa dovrei fare la under 2000 under 2009 quindi ci creiamo una squadra che sia intorno ai 2900 allora devo trasformare quella di gp questa qui in una possibile formazione da poter giocare allora li metterai tyson siamo a 2003 romario lo lascio vittinio anche vediamo che possiamo portare qua guardia è stanco ma potrei portarmi harry kane anche esatto fa 2005 ho messo tejes potrei portarmi un difensore più croccante perché il centrocampo non lascerei così mancherebbe un centrocampista se no potrei portare willock però willock fa centrocampo e trequartista e mi porto willock al posto di chi li sto mcg non è che cambia di tanto ma ne ho solo uno però lui è e se metto mcg qua no metto lui fa 75 no metto mcg fa 77 mettiamo mediano lui e fa sempre 2503 si dai la proviamo così willock va bene la si la proviamo così dai allora che sfida è di oggi proviamo l'under 2000 ok under 2009 allora per avere il bonus qui non ho nessuno però per avere il bonus dovrei mettere vediamo chi dovrei mettere marcial prof 87 song no lui è stanco Pogba potrei portarmi Pogba in panca e uno e quelli dell'altra settimana dovrei portare mhm song allora song lo metto no lo lascio in panca vediamo song e l'altro chi sarebbe per fare i punti award sarebbe e award al posto di chi scusa e award lo metto qua e award qua li recupero la resist- nooo daci che non si può avevo sbagliato ho fatto contratto e gli diamo un recupero di energia dai ok così ho il bonus seconda punta metterai allora se puntaro Mario la la ci spariamo un caso mai song due infezze veramente fa da cagare direi che va bene così loro sono A e B però e lui è A però lui è A fa solo 70 qua dovrei mettere song vabbè la giochiamo così poi vediamo come ce li dà ok ho il bonus andiamo a cercare dell'avversario 4 stelle comunque al fine quest'anno negli ultimi tre anni da quando hanno aggiunto i giocatori IF cioè io ho visto che ogni volta che trovo l'avversario che ha tante sconfitte percentuale di vittoria è più bassa della mia e ho provato mi sono dimenticato con l'impostazione di tasti 3 cioè cemento armato ci ho perso 3 a 2 e lui i suoi 3 2 di suoi 3 gol palla recuperata del mio difensore in area di rigore e e per fortuna che hanno detto che hanno rallentato il gioco di mezzo secondo proprio per farti fare le azioni riuscire a farti fare le cose mi si rallenta talmente tanto il gioco che io passo il pallone ma non lo passa l'attaccante mi si scontra addosso l'attaccante si prende quell'azione dove praticamente si scontra il difensore con l'attaccante e la palla torna quel mezzo metro indietro lui fa un passo prende palla direziona dove vuole tirare e tira a gol ho preso 3 di quei gol che ho preso sono stati così perchè questa è la squadra 5 stelle scusa vabbè lui ce l'ha 5 lui ha pareggio sconfitta vittoria sconfitta vittoria vabbè anche lui ha un loop strano lui gioca larghissimo però vabbè noi li andiamo in vaso lasciamo così l'unica cosa che posso fare è mettere la marcatura di questo su questo esatto poi metto avanzate vediamo se funzionano perchè non è detto che funzionano le avanzate il difensivo a Teyes il difensivo a Spiriquetta e mettiamo il contropiede a Romario e il contropiede a Tyson vediamo come stanno ecco mi ha dato già questi rotti allora qui mi tocca mettere a Spiriquetta qua mi tocca mettere lui e in difesa mi ha dato Willock ho detto che Willock me lo dà giù Willock mi tocca mettere son non posso asso Willock e imporre e in difesa metterò questo e Willock mi tocca lasciarlo qua mettiamo son ok la proviamo così vediamo se sono marcatura quello su quello e basta ma anche i difensori metterei a questo punto no perchè mi si allargano e le avanzate vedete mi si è sballato un difensivo allora un difensivo sulla Spiriquetta e l'altro difensivo a questo contropiede a Romario ho sbagliato contropiede contropiede a Romario e contropiede a Song sballo squadra Lumeniger Dibara Berim Claver Kessib Beckenbauer Pinola Kongre Mustafi Seppe che sballami alla faccia di Under 2009 cioè quella squadra lì sarebbe Under 2009 perchè in panchina avrà tutti bianchi un classico non l'ho neanche guardato dopo vado a rivedere però vedete fatalità il matchmaking su certi orari e su certi account ti mette sempre le persone che abbiano la possibilità di spaccarti le chiappe e in più adesso sono sicuro che ci sarà io spero di no ma ci sarà lo script a favore mio perchè ho la spada più scarsa e perchè il mio avversario chissà quale spette avrà fatto in mano con la vostra dolce metà e invece questa sera le stelle che non potete perdere sono quelle in campo seguiteci per i prossimi i mise lentissimi ma tanto lenti questo è un complesso sportivo che non passa certo inosservato giocare tra queste mura è un sogno per ogni professionista si è cominciato subito primi tocchi di gioco alza la palla in profondità verso un compagno Romario cross di Romario ahiai stanno correndo rischi davvero inutili Cliver un Stafi la gioca sull'altra fascia Cliver riceve in posizione interessante è ben posizionato e spazia via la palla e spazia via la palla ahhh ma ti metti a contare il contratto invece del robo e vabbè guarda questo come che sono da lì per concludere riceve la palla Obameyang prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione Giuba qui cerca e il contiere dice di nuovo Paolo Di Bala l'ampiezza del gioco sembra essere una carriera no sei già fermi l'ho capito si assolutamente cercano di allargare il gioco per sanare la difesa avversaria disunirla e creare gli spazi in mezzo e hanno ragione ottiene un buon calcio in funzione eh ditemi perchè se fallo allora nel tutorial se premi due volte x li togli la palla ok? io l'ho fatto e che cada fallo spazzano spazzano immaginate se i metter sin riesce a tenere il bion vabbè vabbè giuba schiaccia il piede sull'acceleratore dal tiro sepe la toglie dalla porta ha spaventato la difesa sì ma non si può fare sempre tutto da soli c'erano buone opzioni di passaggio nella fase centrale del primo tempo guardate io l'ho messo a lunga in fondo guardate dove è che va adatta sì ma se fallo su Willock eh la è verde che sì prova a scavaccare avversari con una palla lunga occasione per Son palla dentro di Jong Min Son poteva essere un gran pallone peccato che sene di centimetri che sì l'ho messo paolo di bala di nola Kluivert prova con la palla lunga Obama Young sul pallone Kluivert Obama Young un gol grande istinto del portiere di bala a sinistra con il passaggio se ne va grande intervento vale come un gol Willock il suo pallone è morbido che sì paolo di bala lungo passaggio in avanti guardate il gioco a destra ma quest'errore potrebbe essere di fatale sbroglia la situazione la gioco in profondità sarà zero ma io ho i uomini fermi fermi sono fermi sono fermi 2-2 io non l'ho passata al portiere notare sappiamo che non questo è il tipo di difesa che scoraggerebbe anche il più esperto degli attaccanti non sta concedendo palle giocabili praticamente non riesce a servire compagno buona l'intenzione del passaggio ma non l'ha calibrato bene e per gli avversari non è stato difficile fermare l'azione perché lei l'ha messa così di merda guardate, guardate i passaggi sono tutti fatti apposta guardate qua guardate che roba guardate che roba pur da farlo segnare cioè è sconvolgente è sconvolgente il gioco è sconvolgente è sconvolgente come i miei diventano metà metà della loro abilità metà 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 dell'abilità che hanno diventano metà metà dell'abilità che hanno perché il crepino deve vincere sì ma non puoi metterla di tacco dai vale spostano il baricentro sull'altra fascia abboggia il pallone largo con eleganza ha la peggio nello scontro di forza che sì la evert si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa si libera la grande va a avanzare l'azione sulla fascia palla dentro di Kluivert allontana il pericolo sì ma Fiori la stoppa non la buttano in fallo laterale cioè dimmi te che stoppa ha fatto quello sì perché mi sono rotto le palle cioè mi stanno prendendo per il culo anche sta partita qua sono fermi i miei sono fermi i miei sono fermi ma fermi vado a farti a vomitare Fiori hanno il cemento sui piedi hanno il cemento hanno il cemento ai piedi il cemento hanno guarda ma chi cazzo è della passata cioè vabbè ma è che non riuscite a capire quanto cazzo piano va la palla quando io la passo è ferma la palla è fermo sto giocando da fermo sto giocando da fermo sto giocando da fermo da fermo guarda guardate come mi hanno dato i giocatori dai va a fare il culo e Romario hanno toccato un pallone Romario dai andate a cagare dai andate a fare il culo vai guarda guardate come mi ha detto heабат guardate che letto che va no no ma sono fermi sono fermi io ho il passaggio non fare i passaggi perché sono fermi che cazzo vediamo se cambia qualcosa e me l'avrà anche espulso Willock adesso vedrai ve l'ho detto ve l'ho detto fa proprio cagare fa proprio cagare fa proprio cagare questa la devo perdere questa è scritta che la devo perdere è scritto che devo perdere è scritto è scritto che devo perdere è scritto è scritto che la devo perdere i miei sono fermi sono fermi non posso fare niente non posso fare sono praticamente inesistenti dai è una presa per il culo è una presa veramente per il culo dai sto gioco sono fermi sono fermi sono fermi guardate la palla quanto piano va e guardate che passaggi di merda che fanno i miei dai ma che cazzo vogliamo giocare voglio anche giocare a sta roba ci mettono 8 giorni per fare il passaggio sonno fa avanzare l'azione con il lancio lungo allarga il gioco sonno crossa in mezzo si butta per incornare ottimo colpo di testa fuori davvero di niente si è gettato sulla palla con convinzione è mancata solo un po' di precisione cioè neanche neanche il calcio d'angolo non mi guarda cosa cavare a tirare scusa con i coglioni con a tirare sono fermi non riesco nemmeno a muoverli Ibrahimović cerca di sfruttare gli spazi la terra e passa ottimo intervento l'atteggiamento offensivo e la ricerca del risultato c'è ora devono avere solo fortuna sulla fascia in profondità il traste regolare dunque calcio di punizione e il gioco sta diventando un po' troppo maschio l'arbitro dovrebbe prendere in mano la situazione con più pulso adesso guardate il mio guardia dove cazzo mafio i i miei sono completamente fermi 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 mi ha dato tutti i giocatori migliori rotti e sono praticamente fermi dai mi ha andato a fare in cura questo gioco di merda dai ma la ma mica riesco a prenderla la palla sono fermi io non posso fare niente sono fermi sono fermi hanno la freccia su sono ipergasati sono fermi via al primo tempo supplementare vediamo se il lancio arriva a destinazione sonno lungo passaggio in avanti Kane cioè Kane ha messo 8 anni per zilarsi senza successo però Ibrahimovic cambia gioco riceve largo Odrio Sola prova il tiro si esprime in un buon intervento non ha sbagliato nulla all'estremo difensore ha mantenuto la calma e ha reagito no ma non può essere che fanno così schifo gli passa davanti il pallone che è interessante cerca di pescare il compagno col filtrante che si sicuri in fase di palleggio decidono di giocare l'all'indietro Mustafi Odrio Sola filtra la palla in profondità vince il duello fisico fa suo pallone guarda guarda quanto ha messo a fare l'invio la butta in mezzo fischio del direttore di gara calcio di punizione si De Kee De Kee che se è il mio che cade punizione manca poco allo scadere devono approfittarne calcerà forte o proverà la giocata di Fino e a tempo e allontana senza problemi ecco il fischio dell'arbitro finisce il primo supplementare si è aperto quasi l'ineluttabilità dei calci di rigore le squadre sono chiamate all'ultimo sforzo per vincerla nei restanti 15 minuti ma i giocatori sono spiancati da una parte e dall'altra incredibile incredibile ho i giocatori che hanno il cemento armato ai piedi non riesco a fare i passaggi perché quando passo il pallone è talmente lento che è fatto apposta perché lui possa intercettarmi il passaggio non riesco a girarmi con l'omino eccoci qui il secondo tempo supplementare tutto in un quarto d'ora è il momento decisivo partita in dirittura d'arrivo chi avrà più fame di vittoria prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione ottima giocata da lì può segnare prova la soluzione in fascia guarda guarda autogol 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 fiole autogol 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 mi sono fatto autogol ma va a fare in curva va a fare in curva autogol mi ha fatto fare guarda dove chiara messa zara di ritorno pinola c'è la palla lunga in avanti prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti se ne va più devi tirare guarda con chi che perdo ma vedete che sei una roba allucinante io veramente quest'anno vi giuro che sarebbe da disinstallarlo da fargli una lettera a Colami e denunciarli denunciarli perché non è possibile che devo giocare in questa maniera cazzo non è possibile che cadeva a giocare così questo è la ganca adesso la ganca che manca della gara che manca direi che il portiere è stato impeccabile è difficile fare meglio di così e adesso devono inventarsi qualcosa potrebbe anche ma chi cazzo gliela passa meglio in questa circolazione della palla non hanno più tanto tempo per rimediare bravi bravi c'è un'altra partita rubada si è fatto apposta cosa perde il vincere perde il vincere perde c'è un loop di merda di partire c'è un loop di merda di partire si è fatto apposta cazzo è fatto apposta è fatto apposta cazzo ogni partita devo perdere così cazzo hai fatto apposta no è una merda ma io lo sapevo ve l'ho detto che c'è un loop mi hanno messo il loop uno la perdo uno la vinco uno la perdo uno la vinco uno la perdo uno la vinco farò così tutti i dieci sono dei pezzi di merda 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 cazzo non è possibile che i miei facciano così da cagare non è possibile che facciano così da cagare io non lo capisco ma perché su certi account no e sul mio sempre ogni anno c'è sta merda ogni anno ogni anno c'è sta merda che io devo perdere con lo script cazzo ogni cazzo di partita io ce l'ho cazzo i miei sono fermi cazzo sono fermi e staltro giocano peggio di me sono più scarsi di me e devono vincere sono più scarsi cazzo non mi lascia giocare sto cazzo di gioco non mi lascia giocare in nessuna maniera mi lascia giocare e dopo dite che non è vero che non esiste lo script parco puttana questo mi ha risposto non esiste ma non esiste non esiste perché tu sei più scarso di me cazzo giocare sei più scarso devi perdere cazzo se sei più scarso devi perdere cazzo e lo sapevo che mi spelleva Willock come me l'ha munito lo sapevo guardate che netto che è questo cazzo guardate che netto che è guardate con chi cazzo che ho perso una zero guardate che cazzo di statistiche che ha guardate che cazzo di merda mi fa giocare a 26.4 cazzo 26.4 a 15 sconfitte in più delle vittorie prende un gol in 70 partite hanno il segno a 1 e quel cazzo di un gol me l'ha fatto credo con sto roba non ci gioco a altro me l'ha veramente rotto i coglioni me l'ha rotto i coglioni ma non voglio proprio più giocare me l'ha rotto proprio il cazzo dal 2019 da quando cazzo hanno messo i giocatori di salto è una presa per il culo per andare a spendere i soldi mi avete rotto i coglioni io non ve li do i soldi ve l'ho già detto milioni di volte non ve li do non ve li do mi compro il gioco e voglio giocare che sia umanamente onesta la partita umanamente onesta questo doveva perdere e invece con 26% di vittoria vince 1 a 0 cazzo se ero scarso non dico di merda non ce l'ho con te ma che cazzo se sei più scarso devi perdere fine no che ho la valutazione che valutazione ho ditemi che cazzo di valutazione ho dov'è che rappresenta quello che io gioco ditemi dov'è che dov'è che io ho giocato dov'è il mio giocato non è il mio giocato decidono loro decidono loro la tua valutazione cazzo non ho giocato io hanno giocato loro cazzo non ho giocato io avete visto i passaggi dove cazzo non li facevano vaffanculo Konami sei una merda b non ho giocato non ho giocato